Non è stata una sorpresa per Fano trovarsi Claudio Morosi alle finalissime di The Voice Senior 2023, quest'ultima edizione condotta da Antonella Clerici con quattro aggueritissimi giudici a contendersi la splendida e graffiante voce del cantante fanese, ma la serata finale lo ha sapientemente condotto Gigi D'Alessio da Claudio Morosi, scelto come coach, giunto con il brano Perdere l'amore di Massimo Ragnieri. Sapevi già che se tutti i coach si fossero girati avresti scelto Gigi D'Alessio o è stata una decisione istintiva? Sì e no, cioè sapevo, ero sicurissimo che al secondo accordo si sarebbe girato Gigi D'Alessio e avevo deciso che il primo che si fosse girato avrei scelto ed è stato lui. Claudio Morosi, classe 1962, è da anni tastierista e nota voce del territorio, spesso presente come cantante musicista a grandi eventi musicali marchigiani. Ha sempre affiancato il mestiere di musicista a quello di operatore socio-sanitario. Cosa ti ha spinto a fare domanda a The Voice Senior 2023? Ma sai, avendo lavorato sempre dietro le quinte, Pavarotti & Friend, accompagnato artisti, quindi essendo stato sempre dietro le quinte, una volta nella vita ho voluto fare finalmente il protagonista e mi sono iscritto a The Voice Senior. L'innamoramento per le sette note nasce proprio nella chiesa di Santa Maria Nuova di Fano, dove il piccolo Claudio, nato in Svizzera da madre veneta e padre fanese, resta affascinato e incuriosito dall'organo, strumento che ha imparato a suonare con passione, lo porterà a collaborare con Michele Centonze sugli arrangiamenti per Pavarotti & Friends, Boccelli e altri importanti nomi del panorama musicale internazionale come Anastasia, Barry White, Patty Bravo e Fiorella Mannoia. Cosa vedi nel futuro della musica attuale dalle nuove voci che escono dai talent show televisivi? Ma secondo me sai, come da sempre ci sono tanti talenti, tantissimi, perché siamo in Italia, l'Italia, la musica a livello internazionale parla in italiano ad agio, breve, veloce, lo capisco in tutto il mondo, quindi noi abbiamo nel DNA una cultura enorme e abbiamo tantissimi bravissimi artisti. Il problema è un po' la discografia che va sempre a tarpare le ali di chi se lo meriterebbe, ma sono molto, ma sono convinto che piano piano col tempo si possa tornare finalmente a una musica melodica italiana. Claudio, quali sono oggi i tuoi progetti artistici per il futuro? Io insieme al mio staff, insieme al mio management stiamo pensando di organizzare un tour che ci porterà in tutta Europa, se non anche negli Stati Uniti, in Canada dove ci sono delle comunità di italiani oriondi in quei paesi, insomma nati in quei paesi, emigrati eccetera, in Svizzera soprattutto dove io sono nato effettivamente. Quindi abbiamo in programma questo, ma anche in programma un bel concerto per ringraziare il sindaco al quale io ho portato in prima serata a Fano, per ringraziare tutto il comune, per ringraziare anche i fanesi, non per ultimo, che mi hanno votato e mi vogliono bene. Anche se Claudio Murosi non si è portato a casa la vittoria, dal suo sorriso traspare la soddisfazione di aver realizzato il suo sogno, quello di essere riuscito a portare la sua musica nel cuore della gente.